Buonasera e bentrovati in questa terza edizione del TG6 che apriamo parlando dell'importante convegno che si è tenuto stamani al Santuario di San Gabriele a Isola del Gran Sasso. Questo convegno dal titolo Abruzzo in sicurezza si è dibattuto sul tema del dissesto idrogeologico, un convegno al quale è intervenuto tra gli altri anche il capo del Dipartimento della Protezione Civile nazionale Fabrizio Curcio. Con il capo della Protezione Civile qui oggi a San Gabriele si parla di prevenzione del rischio in Abruzzo, gran parte del territorio è a rischio idrogeologico. Il sistema nazionale si è dotato anche di una struttura di missione presso Palazzo Ghigi Italia Sicura, c'è il Ministero dell'Ambiente, c'è il Dipartimento che in questo senso collabora con le proprie competenze in questa valutazione. In Abruzzo mi sembra una regione attenta a queste problematiche, però chiaramente bisogna modulare bene l'utilizzo delle risorse e soprattutto lavorare anche per quello che compete il nostro sistema su quella che è la prevenzione non strutturale, quindi conoscenza del rischio, diffusione dei buoni comportamenti nelle situazioni di emergenza e soprattutto evitare di fare errori strutturali come costruire laddove non si dovrebbe e quantomeno prenderne conoscenza laddove è già avvenuto. Si parla di emergenza anche perché sono mutate le condizioni climatiche nel nostro paese? Quelli rendono ancora più critico, già era critico il problema italiano perché per anni abbiamo fatto poco e certe volte anche male. Le criticità del cambiamento climatico aggravano la situazione, abbiamo preso, ci vogliono dieci anni di impegno forte per portare questo paese in Europa davvero su questo punto di vista. Abbiamo impostato un piano da 7 miliardi in 7 anni e anche dall'Abruzzo abbiamo cominciato, c'è un grossissimo intervento che facciamo su Pescara che dovrebbe andare in cantiere nei prossimi mesi. Insomma abbiamo iniziato questo viaggio che durerà degli anni. Si parla oggi di prevenzione del rischio delle emergenze, Mazzocca, un tema molto sentito su cui la regione Abruzzo ha investito risorse, uomini e tempo proprio per affrontare quelle che sono state le emergenze negli ultimi tempi. Su questo fronte noi insieme alle comunità locali abbiamo messo in campo un lavoro in mane con una dotazione progettuale davvero esecutiva che ci permette di essere attuali e intervenire velocemente. Purtroppo stiamo scontando un po' di ritardi che è accaduta, derivano dalla comunità europea, dal governo centrale per alcuni vincoli che la stessa Bruxelles ha imposto alla struttura tecnica di missione. E sempre il sottosegretario Mazzocca ha risposto con una nota all'allarme lanciato ieri dalla CNA Balneatori. Comprendo la preoccupazione della CNA sull'andamento della stagione balneare 2016 perché il turismo marino è una parte importante dell'economia regionale e dà lavoro a migliaia di persone. Partendo da questa consapevolezza la giunta regionale ha investito oltre 170 milioni di euro per l'adeguamento del sistema di depurazione delle reti fognarie e per la rinaturalizzazione dei fiumi. Queste le parole del sottosegretario Mazzocca. E ora la cronaca. Un uomo di circa 87 anni, Berardino Carrozzi, è deceduto nella tarda mattinata di oggi per un probabile malore mentre stava facendo il bagno nei pressi di uno stabilimento balneare a Rosetto degli Abruzzi quando qualcuno dalla battigia si è accorto che il corpo galeggiava sull'acqua ha lanciato l'allarme. Un bagnino e un vigile del fuoco fuori servizio si sono gettati in acqua tirando fuori l'anziano. I sanitari del 118 hanno subito praticato le manovre rianimatorie ma per l'anziano non c'è stato nulla da fare. L'uomo, residente all'Aquila, si trovava da qualche giorno in vacanza a Rosetto con la moglie. Ma purtroppo non è tutto per questa giornata perché un 68enne di Sesto San Giovanni in provincia di Milano è morto nel tardo pomeriggio in seguito ad un malore avvertito mentre faceva il bagno nella piscina di uno dei grandi alberghi a Montesilvano. Secondo le prime informazioni l'uomo, un turista in vacanza in Abruzzo, è stato colpito da un malore fulminante probabilmente un infarto mentre era in acqua ed è andato a fondo. È stato immediatamente recuperato il soccorso dal bagnino e dal personale della struttura. Poi l'intervento dei sanitari del 118 arrivati con l'ambulanza medicalizzata ma per lui non c'è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Montesilvano. Ora il secondo servizio di questo nostro Tg6 e parliamo dello sciopero di 24 ore indetto per la giornata di domani dal UGL Auto Ferro Tramvieri. Uno sciopero di 24 ore per i ferro tramvieri, l'UGL lo indice per il 6 luglio, tutto questo riporta ai contratti di armonizzazione. Sì, noi il 26 ottobre non abbiamo firmato il contratto di secondo livello per ovvi motivi perché ha prodotto discriminazioni addirittura tra lavoratori e sempre con la premessa del Presidente che tutti mettevano tutto, nel senso che tutti quanti facevano sacrifici, invece si è riversato soltanto sul personale viaggiante, sul personale e addirittura sul personale viaggiante ancora di più. Mentre nelle stanze dei bottoni gli sprechi continuano, come la nomina del quinto consiglio di amministrazione, per due anni la consulenza legale esterna, nonostante tutto che in azienda già sono presente quelle figure. La nomina dei direttori, ex direttori generali e presidenti, tutti quanti rimasti in azienda, da qua a togliere soldi nelle tasche dei lavoratori e dopo nelle stanze dei bottoni, ripeto, degli sprechi continuano, noi a questi giochi non ci stiamo. Noi ci aspettiamo che l'azienda in qualche modo, come c'è stato un tavolo romano e l'azienda aveva promesso in qualche modo di riaprire e vedere alcuni punti che non andavano, ma ad oggi non abbiamo visto nulla. Quali saranno le fasce garantite domani? Sono 5.30, 8.30 e 13.16. Un controllore aggredito e ferito per aver chiesto ad un viaggiatore di mostrare il biglietto sull'autobus sulla tratta Pescara Giulianova. Non è il primo caso ed ora la vittima lancia un appello per l'introduzione di forze pubbliche sui bus in supporto al personale viaggiante. In un mese e mezzo questa è la seconda aggressione, la tratta è quella Pescara Giulianova. Questa è la conseguenza di aver chiesto a un passeggero il biglietto sopra un autobus. Quando sono arrivato all'altezza di questo ragazzo ho iniziato ad alzare la voce, urlandomi addosso di tutto. Allora l'ho invitato a fornirmi un documento per l'identificazione, anche se stili un verbale che poi va perso perché non hanno niente, non hanno niente su cui appoggiarti. Mi ha minacciato dicendomi che la seconda volta che chiamavo i carabinieri per lui, la terza mi avrebbe ammazzato. Io lo invitai molto educatamente, come faccio con tutti, a scendere dal pullman. A quel punto ho visto che mi stavo per sferrare questo pugno. Siccome mi sono reso conto della situazione, riuscii a evitarlo parzialmente. Mi prese sul setto nasale la fronte, poi gli presi la mano per non farmi colpire di nuovo, però con l'altra mano mi ha preso uno schiaffo, una botta. Qual è il vostro appello? Perché questo non è un caso isolato. Dateci un po' più di copertura perché noi siamo gente che la mattina si alza per andare al lavoro, non per fare a botte o non per fare una guerra in tringea. L'azienda dice che ha fatto questo incontro con le prefetture che ci garantiscono assistenza, che ci garantiscono quello che vogliono dire loro, ma noi da settembre che io faccio questo lavoro insieme al collega non abbiamo nessuna assistenza. Noi quando chiamiamo i carabinieri spesse volte non vengono, quando chiamiamo la polizia non viene per niente, spesse volte quando intervengono invece di identificare questo ragazzo che comunque ci ha minacciato, facendogli a meno una parte, mettendogli un po' di timore addosso, identificano a noi, chiedono i documenti solo a noi che li abbiamo chiamati. Restiamo in qualche modo in argomento. sindacati spaccati a vasto sul caso dell'autoservizio Cerella, denunciare l'accaduto la CGL che lamenta ritorsioni verso un lavoratore da parte delle altre sigle e lanciando un appello al presidente di Tua, D'Amico e al governatore D'Alfonso. Un caso che spacca i sindacati al loro interno, arrivando a chiedere il licenziamento di un lavoratore, vittima di un incidente all'interno del piazzale di deposito dei mezzi pubblici di una partecipata Tua. L'autoservizio Cerella di vasto. I fatti risalgono ad ottobre, quando un autista che cercava di salire sul bus è stato investito dal mezzo riportando una prognosi di 15 giorni. Diciamo che i fatti si sono svolti all'interno del deposito aziendale dove c'era un lavoratore che pretendeva di poter giustamente utilizzare il veicolo dell'azienda per recarsi dal deposito al capolinia. Gli è stato impedito di salire sull'autobus e di conseguenza il lavoratore che si è immediatamente fatto notare dal conducente sullo spigolo anteriore è stato colpito dall'autobus e scaraventato a terra. Ci sono tre sindacati, Will Transporti, Fit Cisle e Faisa Cisal che chiedono il licenziamento di un lavoratore. Diciamo che è stato il loro primo intervento fatto all'insediamento del nuovo presidente Angelo Pollutri. Come primo intervento c'è stato quello di richiedere il licenziamento di questo lavoratore. Secondo la CGL la richiesta di licenziamento avanzata dagli altri sindacati sarebbe motivata dall'abbandono dell'autista in causa di un'altra sigla sindacale. L'uomo infatti uscito dalla Will avrebbe poi proceduto al tesseramento con la CGL. Riguarda dissidi interne sindacali ma riguarda soprattutto un accanimento con una parte dei lavoratori, io direi tra quattro lavoratori nello specifico di cui il sottoscritto ovviamente ne è capofila che oggi addirittura si traduce anche con un attacco diretto alla presidenza perché si vuole far giustificare in qualche modo gli scioperi che si stanno facendo presso l'autoservizio Cerella come scioperi connessi alla mancanza di sicurezza delle fermate quindi dell'esercizio, alla vetustata dei mezzi, ai mezzi sporchi alla carenza di controlli tutte questioni che se vogliamo risalgono a molto molto tempo fa e di cui il vero responsabile è solo ed unicamente il presidente Massimo Cirulli che guarda caso Will Trasporti, Cisle e Faisa si sono tenuti ben indenni dall'accusare e dal chiederne le dimissioni. Oggi noi facciamo appello in qualche modo al governatore Luciano D'Alfonso e al presidente, il magnifico rettore Luciano D'Amico al quale sappiamo che i sindacati si sono rivolti per chiedere le dimissioni del presidente. Gli ex lavoratori della casa di Cura Villa Pini di Chieti chiedono di essere pagati come creditori nell'ambito della procedura che oltre sei anni fa portò al fallimento dell'azienda. L'avvocato Alessio Di Carlo che ne rappresenta una settantina oggi ha fatto il punto della situazione in una conferenza alla quale era invitata anche la curatrice fallimentare Giuseppina Ivone che non si è presentata. Credo che l'ammontare dovuto ai lavoratori sia fra 10 e 12 milioni di euro ha affermato l'avvocato Di Carlo quindi una cifra ampiamente inferiore ai 30 milioni di euro che erano oggetto del contenzioso con Santa Maria De Cryptis soldi che a questo punto ci sono perché risolto quel contenzioso almeno un piano parziale di riparto forse a distanza di sei anni dal fallimento i lavoratori lo meriterebbero 180 lavoratori di consorsi di bonifica in protesta questa mattina per il mancato rinnovo del contratto le sigle sindacali hanno presidiato il palazzo della regione a Pescara per chiedere un incontro con le istituzioni e rimodulare i salari dei lavoratori che hanno chiesto un aumento del 6% in busta paga dopo 18 mesi di infruttuose trattative lo Snebi che è il sindacato che rappresenta le bonifiche in Italia ha rigettato tutte le nostre richieste tra l'altro la nostra piattaforma era molto moderata e le richieste erano assolutamente contenute ma questo non è servito a rimuovere le incrostazioni e i pregiudizi che lo Snebi ha posto davanti alle nostre rivendicazioni questo ci costringe a scendere in piazza a proclamare una serie di iniziative e questa è una prima di una serie di scioperi che faremo anche a livello nazionale per rimuovere questa posizione di chiusura totale verso le nostre aspettative non c'è né sul piano salariale né sul piano normativo disponibilità a cercare soluzioni condivise che a nostro avviso sono fondamentali anche per avere uno strumento di gestione del processo di riorganizzazione perché il contratto a nostro avviso in questo caso, in questa fase assume anche una valenza che è quella di avere uno strumento in più per poter gestire eventuali esigenze derivanti dalla riorganizzazione in atto quindi il contratto è che si intreccia con un percorso che ovviamente ci trasciniamo da tempo e quindi l'esigenza nostra è quella di sensibilizzare le istituzioni affinché si porti a Roma ai livelli delle controparti il messaggio dei lavoratori e quindi si provi a sbloccare il rinnovo del contratto che ripeto è uno strumento fondamentale in questo caso Quando si parla di diritto salariale a quanto ammonta la perdita dei lavoratori in questo momento? La perdita dei lavoratori è abbastanza alta noi abbiamo chiesto un 6% loro vogliono andare a un 2,7% con un indice IPCA che per noi è improponibile fare fuori addirittura l'anno 2015 non considerarlo per niente quindi per noi è inconcepibile accettare questa situazione noi andremo avanti con una serie di iniziative avremo lo sciopero il 28 luglio a Roma lo sciopero nazionale e poi dopo vedremo quello che succederà cercheremo di convincere la controparte in qualche maniera e quindi scenderemo in piazza di nuovo per queste iniziative Il Consiglio di Amministrazione di Nuova Carichietti ha nominato Felice Delle Femmine nuovo amministratore delegato dell'Istituto di Credito lo sinegge in una nota dello stesso istituto Delle Femmine prende il posto di Salvatore Immordino che assume l'incarico di amministratore delegato nella Rev la Bad Bank creata per gestire i crediti deteriorati delle quattro banche fra cui Carichietti dopo il salvataggio degli scorsi mesi contestualmente si legge sempre nella nota il CDA promosso Giovanni Zacconi vice direttore generale della banca e ora cambiamo pagina andiamo a L'Aquila telecamere vicino ai cassonetti dei rifiuti e la mossa della ASM contro le discariche selvagge nate come funghi dopo il sisma basta con l'abbandono selvaggio ed indiscriminato dei rifiuti quella che poteva sembrare una minaccia a fine a se stessa per scoraggiare i maleducati diventa realtà con l'installazione delle telecamere in alcuni siti dove sono posizionati i cassonetti per conferire rifiuti secondo l'amministratore unico dell'SM Francesco Rosettini l'occhio della telecamera sarà un utile strumento per scovare chi non rispetta la legge nel dopo terremoto infatti si è registrato un aumento degli abbandoni selvaggi dovuti molto spesso allo svuotamento delle case per le ristrutturazioni prima del sisma basta guardare i dati si producevano infatti 280 tonnellate di rifiuti ora si arriva sino a 2000 tonnellate da settembre poi gli uomini dell'SM saranno operativi e potranno anche fare le multe di ausilio dunque alla polizia municipale in tal modo da rendere i controlli più capillari saranno aperti anche i sacchi lasciati nei cassonetti saranno inviate cittadini buste di immondizia con codice a barre che poi saranno aperti a campione per quanto riguarda invece i lavoratori il comune dell'Aquila sta predisponendo la delibera che autorizzerà il personale interinale chiesto dall'SM si tratta di 8 unità da impiegare per il trattamento delle macerie la questione aveva scatenato molte polemiche politiche gli 8 però non graveranno sul contratto di servizio ma rientrano nel piano economico dello smaltimento delle macerie ha spiegato l'amministratore Rosettini i 20 saranno compresi nel contratto di servizio facendo delle economie e senza alcun onere aggiuntivo il personale si è reso necessario per l'SM che ha avuto picchi di richieste di ferie secondo quanto spiega Rosettini in contemporanea di 34 dipendenti le ferie sono sacrosante e così si è dovuto ovviare con questa delibera e ora parliamo di sicurezza sui posti di lavoro un protocollo di intesa tra Regione Abruzzo e INAIL per avviare una serie di iniziative comuni tra le novità nuove banche dati per operare sul piano della prevenzione questo è un accordo sottoscritto con l'INAIL si parla di uno scambio di banche dati qual è l'obiettivo? è il secondo accordo che sottoscriviamo il primo a valere sulla riabilitazione i lavoratori infortunati abruzzesi hanno finalmente la possibilità di accedere a quelle prestazioni ulteriori chiamate extra-lea che l'INAIL garantisce con un fondo speciale prima non era così il secondo protocollo di intesa quello odierno interviene sulla prevenzione cioè prima che gli eventi accadano uno scambio di informazioni tra banche dati che consente alla sanità di agire nel miglior modo possibile verso il lavoratore e l'INAIL di darci questa collaborazione molto utile credo che sia un passaggio importante per il mondo del lavoro della Regione Abruzzo noi interveniamo sul piano nazionale della prevenzione che è stato recepito con il piano regionale ci sono tempi cronoprogrammi indicatori che in sostanza intervengono su tutte quelle che sono le conoscenze sullo stato di salute che interviene grazie a l'INAIL su ulteriori informazioni che possono essere in grado di prevenire per esempio diverse neoplasie e questo scambio di informazioni che è a disposizione dell'INAIL interviene dentro il sistema sanitario regionale che dunque interviene prima ancora che un evento possa verificarsi rispetto a certe patologie così importanti verrà presentata domani la nuova giunta comunale di Rosetto degli Abruzzi il neosindaco di Girolamo a cinque giorni dalla proclamazione già al lavoro sindaco di Girolamo al lavoro per la nuova giunta ormai è questione di ore la nuova giunta sarà presentata domani alle undici nel palazzo municipale e ora nove sabato ci sarà il consiglio comunale solenne dove giurerò e presenterò le linee programmatiche e presenterò anche la nuova giunta Rosetto siamo in piena estate ovviamente si parla di turismo quali sono le urgenze i primi provvedimenti che prenderà il nuovo sindaco di Rosetto degli Abruzzi c'è la necessità di stare in comune di continuo perché ce ne sono tante la prima cosa è la manutenzione della città presentarci il più possibile bene per quel poco che si può fare in 15 giorni presentarci il più possibile belli ai turisti la stagione sta per entrare nel vivo state pensando a qualcosa di particolare proprio per attrarre ancora più presenze anche dalle altre parti della regione noi quest'anno abbiamo trovato delle iniziative già programmate dalla vecchia giunta e non abbiamo avuto il tempo materiale di innovare quindi avremo Rosetto per la prima avremo la mostra dei vini avremo la sciabbica la pesca con la sciabbica e avremo delle iniziative collaterali organizzate dalle associazioni dalle palestre dalle scuole di danza però ecco non abbiamo avuto la materiale possibilità di programmare qualcosa di originale oltre 100 camion da tutta Italia e non solo sono stati esposti nello scorso weekend a Monte Silvano per il raduno del mare dell'History Track Team grande soddisfazione espressa dagli organizzatori ha riscosso successo al di là di ogni più rose aspettativa il raduno del mare dell'History Track Team che si è svolto sabato e domenica scorsi a Monte Silvano nel parcheggio antistante il Palacongressi oltre 100 camion in esposizione arrivati da tutta Italia non solo tanti gli allestimenti pensati e realizzati all'esposizione si sono aggiunti momenti di intrattenimento come i sexy track wash e gli stand gastronomici una prima edizione che ha pienamente soddisfatto gli organizzatori stiamo rimanendo sempre più colpiti dalle persone che stanno arrivando anche personaggi inaspettati con camion nuovissimi da presentare qua siamo veramente veramente molto contenti la particolarità di questo evento è che è il primo in riva al mare in Abruzzo io penso il primo in riva al mare in tutta Italia ed è stato proprio il mare che ha fatto da richiamo per tanti appassionati abbiamo più di 80 camion provenienti dal sud dal centro dal nord Italia e da Zurigo una donna da Zurigo pieno pieno di spettatori visitatori che non hanno niente a che vedere fare con il camion ho deciso di creare questo evento e farlo crescere il più possibile rinnovo l'invito all'anno prossimo e da oggi fino a giovedì Notaresco ospiterà una masterclass organizzata dall'associazione i musici lotariani ospite d'onore sarà il solista di fama internazionale Alessandro Fossi tre giorni di masterclass a Notaresco ma davvero il 6 luglio poi ci sarà un appuntamento importantissimo si parla di un solista di fama internazionale perciò un evento nell'evento si il maestro Alessandro Fossi che è considerato il più bravo musicista per quanto riguarda il basso tubo uno strumento particolare che di solito si può ammirare nelle bande musicali e la masterclass di tre giorni con 10 allievi quindi numero chiuso provenienti da tutta Italia il maestro Fossi ha suonato con le più grandi più importanti orchestre al mondo e è stato diretto anche dai più grandi direttori d'orchestra del mondo in occasione monica in Abruzzo l'evento è stato possibile e sarà possibile grazie al contributo della fondazione Tercas il BIM il patrocinio del comune di Notaresco e di uno sponsor tecnico la Buffet Crampon la celebre fabbrica di strumenti musicali francese quali saranno le atmosfere che accompagneranno la serata? saranno proposti dei brani originali per questo tipo di formazione orchestra di fiati di 40 elementi che si distingue dalla banda tradizionale italiana dalla presenza di due contrabbassi ma anche strumenti insoliti per la banda come il fagotto oppure il colon inglese e per quanto riguarda il repertorio oltre a brani originali scritti per questa formazione anche colonne sonore di film che si addicono molto a questo tipo di orchestra e ora apriamo standardo chiamberg tröst sono questi nomi nuovi in casa bianca azzurra per la difesa dopo il no di ageti il 35enne atalantino è il giocatore più vicino al delfino la società bianca azzurra avrebbe già l'accordo con l'esperto centrale che ha però ancora un anno di contratto con la società orobica ma è tornato forte anche il pressing del pescara su Norbert Ghiomber centrale slovacco di 24 anni ex Catania ma di proprietà della Roma il giocatore gradito al tecnico Massimo Oddo che spera di riavere anche nelle prossime ore Alessandro Crescenzi dalla Roma più indietro l'ex lancianese Trest nell'ultima stagione al Novara con Marco Baroni nelle ultime ore Radio Mercato ha parlato anche di un sondaggio del pescara con il Milan per Rodrigo Eli per l'attacco si riparla invece di Suarez ma l'Anderlecht dovrà abbassare le pretese economiche Rumors riferiscono anche di un presunto interessamento della società adriatica per quanto concenne l'attacco per l'Atalantino Piniglia giocatore che però sembra al momento inarrivabile per il Delfino infine sono oltre 400 gli abbonamenti sottoscritti fino a questa mattina dai tifosi biancazzurri grande l'entusiasmo dei supporters adriatici che sembrano credere nel progetto del patron Sebastiani E ora la Lega Pro il Terramon nelle prossime ore attende una risposta dall'attaccante Marco Sansovini il giocatore di proprietà del Pescara ha dato la sua disponibilità ma ci sono ancora degli aspetti da rimare intanto giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per la permanenza in bianco rosso di Scipioni Le prossime ore potrebbero essere decisive per stabilire se Marco Sansovini sarà il nuovo attaccante del Teramo quella di ieri è stata tutto meno che una giornata interlocutoria partita in mattinata con un primo approccio non positivo prima della conferenza stampa di presentazione della campagna abbonamenti 2016-2017 poi nel pomeriggio altro incontro con le parti che si riavvicinano sensibilmente quasi fino all'accordo nel tavolo a tre dove siede per forza di cose anche il Pescara proprietario del cartellino di Sansovini si cerca la quadratura del cerchio e alle 19 minuto più minuto meno c'è la fumata grigia tendente al bianco ottimismo filtra dalle parti di via Oberdan nelle prossime 24-36 ore nuovo aggiornamento per il sì o il no definitivo intanto la rosa sta per essere completata oggi Di Paolo Antonio e Palestini dovrebbero passare proprio al Delfino rimanendo in bianco rosso in prestito per un'altra stagione da valutare le situazioni di Tonti se ne parlerà tra qualche giorno di Scipioni rimarrà e giovedì sarà il giorno decisivo e Amadio bisognerà definire con loro l'abbiamo fatto con Speranza con Caidi stesso Di Paolo Antonio Dorazio quindi nel gruppo dei vecchi con Petrella non c'è stato bisogno perché avevamo definito poco tempo fa diciamo nell'anno in corso con Scipioni e Tondi c'è da parlare c'è da definire senz'altro quindi poi vedremo appuntamenti in settimana cosa ne uscirà fuori altre due idee e sarebbero due ritorni quello di Piero Antonio Sassano che tornerebbe a Teramo a distanza di due anni Campitelli ci fa un pensierino in settimana potrebbe valutare la cosa con il suo agente così come vorrebbe riportare in Abruzzo Stefano Moreo che in una stagione complicata ha fatto comunque vedere buone cose poi inizierà il ritiro di Ovindoli con la squadra fatta o quasi in attesa delle prime amichevoli precampionato amichevole di prestigio il 24 luglio a Palena contro il Pescara sarà sicuramente un appuntamento gradito a entrambe le tifoserie sì entrambe le società e entrambe le tifoserie che questo credo che sia importante con il Pescara c'è stato sempre un buon rapporto quest'anno addirittura si sta per consolidare in maniera ancora più importante quindi credo che l'amichevole sia una cosa piacevole per entrambe le tifoserie poi sarà in un campo dove certamente c'è bisogno dell'unione perché è un campo che non sarà il Bonolis che è strutturato in maniera diversa quindi la vediamo in maniera positiva e sicuramente sarà piacevole non mi che vuole piacevole e ora la serie D nel corso della conferenza di presentazione del nuovo organigramma della Chieti Calcio gli ultraneroverdi questa mattina hanno fatto irruzione in sala stampa e contestato i dirigenti il patron Pomponi ha abbandonato la conferenza una mattinata ricca di tensioni in casa Chieti doveva essere la giornata della presentazione del nuovo organigramma Neroverde con il direttore generale Riccardo Canuti e il neo DS Massimo Mutali Passi che affiancavano il patron Giorgio Pomponi ma l'irruzione degli ultra del Chieti ha mandato in frantumi i programmi dell'imprenditore romano che a blitz concluso visibilmente provato ha preferito abbandonare una conferenza che lo stesso Pomponi aveva introdotto dicendo la sua sulla vicenda che a Chieti negli ultimi tempi ha fatto discutere la nuova accordata che ha acquisito il titolo della Torre Alex in promozione chiedendo di giocare all'Angelini una vicenda così spiegata da Pomponi praticamente noi siamo stati contattati da due politici che vi rappresentano qui del PD di Chieti il quale abbiamo contato io e l'Avvocato Canuti questi signori inizialmente erano tanti programmi anche perché poi non ho visto nessuno questa famosa accordata di rappresentanti ma bensì hanno mandato questi loro due missari noi abbiamo chiesto una cosa allora hanno detto più soluzioni io all'unica cosa ho detto facciamo una bella cosa i soldi in unità della Chieti Caccio facciamo che i soldi vostri che voi fate i 20 ipotetici imprenditori che voi siete li mettete sulla Lega Pro per il pescaggio della Lega Pro a me mi ha più chiamato nessuno appena abbiamo captato io e l'Avvocato Canuti e non chiedi il direttore di Chieti che era soltanto per me mia modesto parere insieme a Riccardo è il fatto che potessimo diventare la succursale del pescara no grazie per cui abbiamo rimandato l'offerta ma senza che loro ci abbiano chiamato per cui è una risposta noi abbiamo dato tre opzioni nessuna risposta subito dopo la parola è passata il DG Canuti il cui discorso è stato interrotto dall'irruzione dei tifosi neroverdi la tensione sale alle stelle con gli ultra che imputano alla dirigenza di aver fatto tante troppe chiacchiere in questi mesi ma pochi fatti quindi Pomponi abbandona la conferenza e si lascia scappare oggi è una brutta giornata una giornata che imporrà una riflessione all'uomo che appena un anno fa aveva raccolto l'eredità di Walter Bellia e sempre per la Serie D si è tenuta nel pomeriggio la conferenza stampa di presentazione del neotecnico dell'Aquila Calcio Massimo Morgia che ha spiegato i motivi che lo hanno indotto a scegliere appunto l'Aquila Dopo nove anni che mi ero detto di restare nel circondario della Toscana ho ripreso a girare e lo faccio con grandissimo entusiasmo e grandissima voglia perché conoscevo qua il direttore sportivo che è Alessandro Battisti che è stato mio ex giocatore che ha i miei stessi valori i miei stessi principi nella stessa visione del calcio e della vita quindi ho trovato una società che mi ha impressionato uno stadio mi hanno fatto visitare lo stadio nuovo dove andremo a giocare che è senza barriere che è una cosa spettacolare perché credo che dovrebbe essere obbligatorio in Italia avere tutti i stadi senza barriere quindi sono tre cose che mi hanno spinto in più l'Aquila ha un fascino particolare per il fatto che ho letto la sua storia le sue cose è una città che è stata martoriata e quindi è in un periodo di ricrescita e di ricostruzione mi sembrava mi sembrava la persona giusta per ricostruire non ho ambizioni di carriera alla mia età né di arricchirmi con il calcio mi piacciono le cose passionali mi sono buttato dentro con l'entusiasmo che magari non avevo da tempo soprattutto in visione di una ricostruzione che comincia da oggi finisce qui anche la terza edizione del TG6 TG che torna domani ovviamente alle ore 14 grazie per l'attenzione e buonanotte e buonanotte Grazie a tutti.